No, io volevo dire, rimanendo molto sul pratico, oltre tutte quante le varie tecniche che sono utilissime, il fatto di scoprire che le mappe mentali si possono fare al computer e che quindi puoi spostare, perché il problema da me è se anche ci provavo o ci ho provato, poi non riuscivo più a mettere dentro la roba e quindi le lasciavo andare. Il fatto che puoi spostare, raggiungere, fare e disfare è veramente eccezionale, è proprio uno strumento fantastico. Grazie.